Musica Giornate come queste sono molto importanti perché c'è bisogno di promuovere la figura del musicoterapista perché di fatto è una figura ormai presente in molti ambiti educativi ma anche riabilitativi, è presente ormai in molti ospedali e in molti centri privati anche se in realtà spesso questa figura professionale non è ben conosciuta, ci sono molti equivoci, non si sa bene quali siano le finalità terapeutiche che si possono perseguire attraverso la musicoterapia e quindi è importante che si promuovano eventi come quello di oggi per far conoscere appunto su larga scala questa professione, specie adesso che sempre più la musicoterapia si avvia verso un riconoscimento sociosanitario anche in Italia così come ormai una realtà consolidata da molto tempo in molti paesi europei. Grazie a tutti!